e il ma che cazzo è pronto ciao shorty cosa stai facendo niente sto su internet sono un problema sei da solo Bellaaa!! Bellaaaaaaaaaaaaaaaa!! Bellaaaaaaaaaaaaaa!! Ma che se lo fanno? Chi è? Inviato due leggera e prendi sto cazzo il telefono! Pronto? Chi parla? Bellaaaaaaaaaa!! Bellaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Tu che stai facendo? Niente. Non matto. Te ditte. Grazie a tutti